Ben trovati a tutti, nuovo appuntamento con i libri. Anche questa settimana ci troviamo nella Libreria Padre Pio a pochi metri dal Santuario di Santa Maria delle Grazie. Per consigliarvi libri anche un po' datati o novità editoriali e libri anche dedicati ai bambini, alle catechesi e al catechismo, anche se in questo periodo è difficile che sia possibile che questi incontri siano personali, però anche attraverso questi piccoli consigli di lettura vogliamo entrare nelle vostre case e farvi compagnia. Un libro che voi direte, beh, non è la prima volta che lo presenti, sì, però è davvero sempre, sempre attuale, perché quando si parla di Padre Pio, di storie, di episodi, aneddoti, davvero non ne avremmo mai abbastanza, sono sempre storie attuali che ci insegnano tanto, come le storie legate all'angelo custode, perché in questo libro sono raccolte davvero straordinarie esperienze di Padre Pio, confidate ai suoi direttori spirituali fino al 1922, raccolte da un frate che è rimasto accanto a Padre Pio fino agli ultimi anni della sua vita esistenza terrena e che ne ha curato anche la corrispondenza in lingua straniera. Stiamo parlando di Fralessio Parente, che firma questo libro, Mandami il tuo angelo custode. Guardate che bella immagine di Padre Pio e di un angelo di spalle. Allora, il libro è davvero, potremmo dire, un grande classico, come se fosse un film o una canzone, ma davvero sono storie delle quali è difficile stancarsi. Pagina 111, racconta Padre Alessio Parente. Sono stato vicino a Padre Pio per quasi sei anni e proprio stando vicino a lui mi sono reso conto chiaramente di quante persone gli mandassero i propri angeli custodi quando desideravano che ricevesse un loro messaggio che li ricordasse nelle sue preghiere. Infatti, mentre con lui passavo tra la folla, ogni giorno sentivo spesso, Padre, siccome non posso ritornare, che cosa devo fare se ho bisogno delle vostre preghiere? E Padre Pio rispondeva, se proprio non puoi raggiungermi, mandami il tuo angelo custode a portarmi il tuo messaggio. Io ti aiuterò per quanto mi sarà possibile. Splendido modo di comunicare questo con i suoi figli spirituali. Meravigliosa invenzione per comunicare con il mondo intero, non con i soliti mezzi come la lettera o il telegramma, non con il treno o l'aereo o altro mezzo umano di comunicazione, ma servendosi di uno spirito, un angelo più veloce di tutti i mezzi moderni. Non che per Padre Pio si associasse ai malpensanti e critici della permanente inefficienza dei nostri servizi postali. No, Padre Pio era rispettoso del lavoro altrui e si adeguava alle esigenze ed efficienze dell'ambiente. Però, insomma, era particolare questo modo che lui utilizzava per comunicare con i suoi figli spirituali. Allora, tornando ai suoi rapporti con la gente, racconta Padre Alessio, udito molto spesso dalla sua bocca in risposta a richieste di aiuto, mandami il tuo angelo custode. Ogni volta che non capiva bene quel che i fedeli gli dicevano al suo passaggio, diceva sempre, mandami il tuo angelo custode. Ho sentito tante volte questo invito rivolto ai suoi devoti, che mi è sembrato giusto dare queste parole come titolo a queste pagine che trattano dell'angelo di Padre Pio. Infatti, ora capite perché il titolo è, mandami il tuo angelo custode. Una frase che Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali, ma ai tanti fedeli che venivano a San Giovanni Rotondo per parlare con lui. Un giorno, mentre ero seduto al suo fianco nella veranda vicino alla cella, quando tutti i frati si erano ormai ritirati nelle loro celle per il regolare momento di silenzio, vidi che Padre Pio, con la corona del rosario come sempre, stava recitando il rosario appunto e notai, scrive Padre Alessio, che vicino a lui non c'era anima viva. Attorno a lui c'era una calma e una pace così intense che mi senti incoraggiato ad avvicinarmi per rivolgergli alcune domande. In quegli anni di solito ricevevo molte lettere di persone che chiedevano un consiglio di Padre Pio su un qualsiasi problema. Egli del resto sapeva questo perché non solo io ma anche gli altri confratelli facevano da intermediari tra lui e i suoi figli spirituali. Il momento mi sembrava buono per scambiare due parole con lui. Mi avvicinai e prendo una lettera e rivolgendomi a lui con molto rispetto dissi, padre, la signora tizio Caio, vi chiede un consiglio sul lavoro. Ha già una buona occupazione ma un'altra ditta le sta offrendo una migliore possibilità insieme ad un salario più elevato, il che le garantisce una vita migliore. Cosa deve fare? Come a grande sorpresa non dette risposta ma con tono di rimprovero aggiunse. Sì figlio mio lasciami solo, vagliù non vedi che ho da fare? Confesso che ci rimasi male, racconta Padre Alessio. Strano pensare tra me e me. Si mette seduto a sgranellare il rosario e dice che ha da fare. Boh. E mentre in silenzio era ammaricato per come aveva liquidato me e la mia domanda, ero chiuso in me stesso a pensare sul suo strano da fare, pendente convinto che fosse vero che avesse da fare, se non recitare il rosario, operazione che poteva sospendere, rimandare e che oltretutto non richiedeva tanta fatica. Il padre si rivolse a me piuttosto corrucciato con queste parole. Non è visto tutti quegli angeli custodi andare avanti e indietro dai miei figli spirituali a portarmi i loro messaggi. Non sorpreso dalle sue parole, quasi con indifferenza replicai. Padre, io non ho visto proprio niente, neppure un angelo custode, ma vi credo perché voi consigliate ogni giorno la gente di mandarvi i suoi angeli custodi. Poi il colloquio proseguì su ciò che io sottoponevo alla sua attenzione. Fu molto paziente, gentile e paterno. Quindi in quel momento Padre Pio, come dire, stava ascoltando le richieste delle persone che gli stavano mandando l'angelo custode. Pensate un po'. Queste storie sono straordinarie. Ecco perché, dicevo, anche se è un libro del quale abbiamo sicuramente già parlato tante e tante volte, sono quelle storie, quei libri e quei racconti che davvero non stancano mai. Mandami il tuo angelo custode, firmato da Padre Alessio Parente, edizioni Padre Pio da Pietrelcina. È stato beatificato da poco, recentemente, giovanissimo, una figura davvero straordinaria che la Chiesa ha riconosciuto tale, è Carlo Acutis, adolescente innamorato di Dio. Questo libro è edizioni messaggero di Padova. Il libro è firmato e scritto da un frate, minore, un frate minore conventuale, saggista e giornalista, collabora anche con diversi quotidiani, autore anche di opere teatrali e che, come dire, racconta la vita del beato Carlo, del recente beato Carlo Acutis. Nella presentazione leggiamo Padre Luigi Francesco Ruffato ci mostra i momenti più significativi di questa esistenza. Carlo è uno studente particolarmente dotato, brillante in informatica, un giovane buono e gentile, affettuoso e comprensivo con i coetanei. È profondamente animato da una fede intensa. In fondo, dicendo così, potrebbe sembrare un'esistenza come tante altre, distinta tutt'al più da un sentimento religioso che oggi, negli adolescenti, non è facilmente, non è probabilmente così facile da ravvisare. E in parte potrebbe anche essere così. Carlo condivide molte passioni di quelli che chiamiamo i millennials, cioè quella che viene chiamata continuamente la next generation, nata col nuovo millennio, l'informatica e la musica. Ma questa semplicità, si potrebbe dire anche che normalità, racchiude un tesoro, che è un dono solo di poche anime, forse. Dedicare la propria vita, come ha fatto Carlo Acutis, attimo dopo attimo, a qualsiasi cosa si faccia, a un fine che ci trascende, che supera ogni finezza. E Padre Ruffato mostra chiaramente come questo fine fosse Gesù. Carlo Acutis, l'innamorato di Dio, ha sentito la presenza del Divino in modi che a molti sono preclusi e ha trasformato quello che per gli altri, il qui e ora, in un valore superiore. E questa non è santità. Per chi come noi non ha conosciuto questo giovane e ne scopre la presenza attraverso queste pagine, è consolante sapere che talora la luce della santità si manifesta nella sua pienezza. E' davvero un libro che contiene, tra l'altro, anche due testi inediti di Carlo. E' un libro agile, ecco, vedete, piccolo, che si può tenere anche in borsa, però davvero che racconta tanto del neo beato Carlo Acutis. Il libro edizioni Messaggero di Padova si intitola Carlo Acutis, adolescente innamorato di Dio, firmato da Fra Luigi Francesco Ruffato. Lui si chiama Salvo Noè, psicologo, psicoterapeuta, è un formatore molto apprezzato. Ha scritto questo libro che riporta la prefazione di Papa Francesco intitolato Vietato lamentarsi. Ecco, guardate, proprio con un segnale di divieto. Il libro è edito dalla San Paolo. Perché? Perché smetterla di lamentarsi? Perché le lamentele ci impediscono di trovare una soluzione, ci fanno spendere energie, generano uno stato d'animo negativo e influenzano le relazioni interpersonali. Poi perché ci lamentiamo? Perché siamo abituati a farlo? Perché siamo insoddisfatti della nostra vita? Perché è un meccanismo efficace per manipolare gli altri? C'è una cultura che sorregge questo vezzo. Magari sono stati anche i nostri genitori a educarci al lamento, forse perché lo mettevano in atto spesso. Poi, tutti si lamentano? Si chiede l'autore. No, c'è una percentuale di persone che, pur avendone vari motivi, decide di fronteggiare le difficoltà sviluppando competenze emotive e tecniche, quindi capacità di problem solving, quindi di risolvere i problemi. E poi, è sempre sbagliato lamentarsi? Interessante questa domanda. Ci possono essere dei momenti di difficoltà, di dolore, che possono indurre una persona ad avere un tono calante, a provare anche rabbia. In quel caso non parliamo di lamento, ma di una reazione a qualcosa che ci ha fatto male. Possiamo definirlo uno sfogo momentaneo, che poi si indica sempre verso una soluzione. Quindi, sfogo momentaneo sì, lamentela, continua no. Questi tanti altri spunti di riflessione potete trovarli in questo libro, in cui davvero l'autore, Salvo Noè, cerca di spronare il lettore a smettere di lamentarsi e a cambiare in meglio la propria vita e, di conseguenza, anche quella degli altri. E c'è anche un modo per smetterla di lamentarsi, per trovare sempre del buono in quello che facciamo, in quello che fanno anche gli altri. Ci piace sempre concludere con le parole di Bruno Ferrero, Piccole storie per l'anima. Il libretto di questa settimana si intitola L'iceberg e la duna, edito dalla LDC, pagina 17, una storia molto breve che si intitola Sul bus. Un ragazzo di 24 anni, guardando attraverso la finestra del bus, gridò Papà, guarda, gli alberi ci vengono incontro. Il padre alzò lo sguardo verso di lui e sorrise. Una giovane coppia, seduta vicino, rise per il comportamento infantile del giovane. Il ragazzo tornò a esclamare, guarda papà, le nuvole ci inseguono. La coppia, non poter resistere, e disse al padre del giovane, perché non porta il suo figlio da un bravo medico? E l'uomo sorrise e rispose, ci siamo appena stati, siamo usciti ora dall'ospedale. Mio figlio era cieco dalla nascita e oggi per la prima volta può vedere. Ogni persona del pianeta ha una storia, questa è la morale. Non giudicatela fino a quando non la conoscete e le verità vi stupiranno. Davvero, è proprio così. Queste e tante altre storie le ritrovate in questo libricino, edito dalla LDC, firmato ormai da un amico, Bruno Ferrero, piccole storie per l'anima, l'iceberg e la duna. Con questa segnalazione, come sempre, vi rimando al nostro canale YouTube, tra le righe, lo potete rivedere, andate su Padre Pio TV, quindi rivedete questa puntata, se vi va, ma anche le altre già andate in onda. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento in compagnia del palinsesso di Padre Pio TV. Grazie a tutti.